perfetto allora innanzitutto volevo ringraziare e piero e laura di insomma di di esser qua e essere venuti ad aver accettato questo invito e questo webinar organizzato nell'ambito del corso di apicoltura e impollinazione che è un corso della magistrale in scienze agrarie del territorio e ci sono anche dei ragazzi che fanno parte del curriculum di agricoltura sociale insomma è un argomento di cui abbiamo un pochino parlato durante lezione volevamo approfondire ragazzi sono interessati interessatissimi e ci sono anche altre persone insomma che stanno seguendo al di fuori del corso di laurea perché insomma un argomento abbastanza importante ed attuale e nuovo quindi siamo curiosi di sapere un po' effettivamente questa api terapia in cosa consiste per questo abbiamo chiamato laura cavalli e e piero milella dottoressa laura cavalli e il dottor piero milella che sono eh diciamo eh specializzati in questa in questo argomento allora faccio una piccola presentazione poi se mai correggetemi per favore la dottoressa la laura cavalli è una farmacista ed un operatore olistico trainer e il dottor piero milella è un biologo naturopata entrambi fanno parte gestiscono il gruppo di api e benessere che da quello che ho capito un gruppo multidisciplinare che nasce un pochino all'interno di quello che è il world biodiversity association poi magari ci diranno un pochino meglio eh che cosa che cos'è questo world biodiversity association e appia benessere che cosa fa e in più hanno anche aperto diciamo stanno gestendo l'accademia di api terapia e anche di questo immagino che ci direte qualcosa e niente io lascerei la parola ai relatori e insomma perché in queste due ore ci illustreranno un po' questo 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 tema e ringrazio ancora una volta agli studenti a chi è online di essere presente ma soprattutto ai dottoressa cavalli al dottor milella di essere qua bene allora aspetta mettiamo un altro grazie Sara per la presentazione e sì io direi che iniziamo subito a condividere le slide e così iniziamo a parlare dell'apiterapia allora eh presentazione ora vedete dall'inizio c'è sempre il thriller di questo momento fatemi sapere se eh se si vede ecco ok allora eh iniziamo subito con una definizione cioè che cos'è questa apiterapia è il trattamento di numerosi disturbi con tutti i prodotti raccolti elaborati e secreti dalle api non è come molti pensano eh solo il eh trattamento col veleno cioè l'api puntura a volte per chi ha sentito parlare questa parola ci può essere questa confusione invece l'api puntura è una cosa l'apiterapia è una cioè è la stessa cosa ma ampliata su tutti i prodotti e possiamo dire che come la fitoterapia è la medicina che ci offrono le piante così l'apiterapia è la medicina che ci offrono le api può essere usata in prevenzione sostegno sinergia è proprio una medicina integrativa ed è basata sull'ABM cioè sulle evidence medicine cioè sulle prove di efficacia e quindi sull'osservazione dei risultati ottenuti ci sono numerosi studi numerosissimi studi clinici come poi andremo a vedere numerosi come numero su un numero di pazienti inferiore rispetto chiaramente al farmaco però sappiamo che sono due canali che non si incontrano non è una definizione quella che abbiamo dato noi ma è una definizione che troviamo pubblicata appunto anche su PubMed per esempio in questa rivista di questo giornale di medicine complementari alternative vediamo che l'apiterapia è definita come la scienza e l'arte di mantenere la salute con l'uso dei prodotti dell'alveare quindi miele polline propoli li nomina tutti fino al veleno le organizzazioni internazionali che si occupano di api terapia sono la International Federation Api Therapy che è fondata in Germania vedete il link è api terra punto org e su iniziativa del dottor Stangascio che è un medico e fanno attività varie soprattutto in lingua inglese mentre la World Api Therapy Organization la wow eh api therapy punto co perché è in a sede in Colombia quindi raggruppa diciamo tutto il Sud America ed è quindi soprattutto fanno attività e congressi in lingua spagnola perché sono partita dall'internazionale perché eh l'apiterapia è molto sviluppata all'estero in Europa soprattutto nell'est dell'Europa in America tantissimo negli Stati Uniti ma in tutte le nazioni veramente in Italia è da pochissimi anni che se ne parla in maniera strutturata possiamo addirittura dire dal duemila quindici più o meno perché eh quando è nata l'associazione italiana di api terapia eh io sono uno dei soci fondatori Piero è uno dei primi soci poi qualche anno fa ci siamo appunto allontanati dall'associazione di api terapia e siamo entrati e abbiamo fondato il gruppo api benessere appunto che vedete api benessere punto com è che un gruppo multidisciplinare all'interno della VBA Onlus che è appunto la World Biodiversity Association che si occupa di biodiversità a tutti i livelli e chiaramente la sezione api con Paolo Fontana che è il presidente che Sara conosce appunto molto molto bene è il il leader di questa associazione e ci è sembrato che le api all'interno della VBA ci insomma potessero trovare una buona casa diciamo e quindi appunto abbiamo fondato il gruppo api benessere che ha l'obiettivo di divulgare eh tutte queste questa materia dove intendiamo api terapia come un percorso ehm attraverso le api di benessere per l'uomo per gli animali e appunto per l'ambiente e poi all'interno del gruppo api benessere si è eh formato si è resa eh diciamo la necessità eh di avere proprio un sito dedicato alla formazione e alla divulgazione online quindi eh con la possibilità di trasmettere webinar convegni e dare tante informazioni su questo e quindi è nata l'Accademia di Api Terapia che gestiamo in prima persona io e Piero e appunto il dottor Milella e e quindi all'interno dell'Accademia di Api Terapia per la quale come ha detto Sara bisogna registrarsi e fare semplicemente creare un account in modo che si aprano tutte le sezioni c'è una biblioteca eh ricca di riferimenti bibliografici e eh risorse video quindi potete vedere eh registrazione dei vari convegni e webinar che abbiamo fatto e eh ci sono eh informazioni c'è un blog come anche su Api e Benessere il blog di Api e Benessere è più divulgativo e e mentre gli articoli pubblicati nel blog eh di Accademia sono più eh diciamo scientifici e quindi seguendo diciamo questi due siti eh con Accademia c'è anche la possibilità di iscriversi a dei corsi e eh che stiamo ampliando perché è nata da abbastanza pochi mesi e e quindi ecco potete essere diciamo al centro dell'apiterapia in Italia ma chiaramente con il veicolo e il collegamento a a tutto ciò che succede nel mondo in questo ambito. Allora proseguiamo eh inquadrando l'apiterapia nell'ambito di tutte le medicine integrative e vedete in lingua angloxassone l'acronimo CAM è Complementary Alternative Medicine che è diviso in cinque grossi eh gruppi sono le terapie olistiche l'integrazione la medicina energetica le pratiche manuali e i trattamenti corpomente a loro volta suddivisi in varie altre eh branche chiamiamole e e qui non ci sono neanche tutte alcune sicuramente le conoscete ne avete sentito parlare la yurveda l'omeopatia la naturopatia ma la i massaggi la l'osteopatia la meditazione yoga mh la fitoterapia sono tantissimi. L'apiterapia si va a integrare perfettamente con la naturopatia la fitoterapia i probiotici proprio perché i prodotti apistici ehm sono ehm usati come integratori e senza come alimenti ma anche soprattutto come integratori va a integrarsi bene con i trattamenti corpomente con il biamming che è il ronzio delle api e quindi con la meditazione che è fortemente favorita dal biamming appunto e con le pratiche manuali per esempio con il massaggio col miele quindi l'apiterapia possiamo definirla come una eh branca delle medicine eh integrative e eh addirittura direi come un capitolo della naturopatia dovrebbe essere molto più conosciuta perché mediamente anche a livello degli operatori olistici dei naturopati l'apiterapia purtroppo è ancora poco conosciuta in Italia ma insomma ci stiamo dando da fare. Quando parliamo di apiterapia dobbiamo innanzitutto parlare di qualità voi immaginate anche perché quindi apiterapia e qualità sono un binomio indissolubile perché si deve avere la certezza di utilizzare i prodotti delle api non contaminati chiaramente o alterati da agenti chimico fisici quindi una produzione un allevamento non idoneo può alterare la completezza dei singoli prodotti e produrre anche elementi inquinanti e quindi ah va a eliminare a uccidere come dico io tutti i micro elementi indispensabili per eh l'effetto permettetemi il termine terapeutico. Questo perché i prodotti delle alveare sono alimenti vengono consigliati spesso anche per uso quotidiano sapete che le api hanno contatti con tutte le matrici ambientali non sono degli animalini che teniamo in gabbia quindi non si può parlare di un allevamento ma sono degli animali liberi che gli va bene diciamo interagire con noi gli diamo delle buone casette sono considerate proprio per questo eh perché per i loro contatti sulle matrici ambientali dei delle sentinelle dell'ambiente vengono utilizzate come bioindicatori quindi in tutte le matrici dell'alveare si possono accumulare residui di ciò che di chimico viene utilizzato nell'ambiente bisogna essere consapevoli di dove si acquistano i prodotti e è per essere sicuri che eh appunto non si usino prodotti con residui inquinanti quindi vedere eh la provenienza del miele sapere dove è stato raccolto in pratica bisognerebbe avere il proprio apicoltore di fiducia dove si vanno acquistare questi prodotti quindi una persona che si conosce si sa come lavora è miele del nostro territorio dove viviamo e quindi come abbiamo il medico il farmacista di fiducia se vogliamo anche l'alimentare di fiducia sarebbe giusto avere il proprio apicoltore appunto di fiducia. Come ottenere prodotti adatti all'apiterapia quindi come eh riuscire a orientarsi in questo o come produrli noi stessi magari qualcuno di voi eh diventerà anche apicoltore o qualcuno è apicoltore già ci sta ascoltando. Eh la domanda da fare dove si trovano i componenti principali che vogliamo ritrovare nel miele e negli altri prodotti delle api e si ritrovano nelle piante. Le api interagiscono con le piante. Per questo apiterapia è per il sessanta per cento fitoterapia. Dove mettere le arnie? È cercare una zona ricca di vegetali, di specie mellifere e di biodiversità per posizionare le arni. Quindi la biodiversità è fondamentale. Posizionare la piaria in una zona pulita, distante da aree che possono essere fonti di inquinamento. Quindi anche l'aperta compagna dove però magari ci sono nelle vicinanze ehm delle coltivazioni ehm intensive dove vengono usati diciamo prodotti non proprio naturali può non essere giusta pur essendo in aperta campagna larga. L'attrezzatura usata dall'apicoltore deve essere sempre perfettamente pulita e non contaminata da sostanze che non vogliamo ritrovare nei prodotti. In una conferenza di di appunto a estera di apicoltori esteri eh ho sentito addirittura dire eh un medico diceva l'apicoltore dovrebbe lavorare come un chirurgo in una sala operatoria. Quindi immaginate quanto sono diciamo avanti eh alcuni apicoltori appunto all'estero. I trattamenti devono essere pochi e fatti con prodotti ammessi chiaramente nel regime biologico e i prodotti e quindi questo per eh diciamo tutto il lavoro che fanno le api. Poi però l'apicoltore raccoglie questi prodotti, li porta nel proprio laboratorio e a quel punto deve stare attento lui stesso a non fare trattamenti che vadano che possano andare ad alterare il il prodotto. Per esempio l'esposizione a una lunga temperatura o alla luce e altere i prodotti. Una temperatura sopra i quaranta gradi uccide vitamine, enzine, tutto ciò che è presente nel miele per cui diventa una semplice miscuglio di zuccheri e eh mentre per esempio un barattolo di miele tenuto in vetrina esposto al sole per tutta l'estate avrà un decadimento rapidissimo di tutti i composti che svolgono l'azione antiossidante. Allora possiamo dire che migliori prodotti da usare in apiterapia si ottengono in aree non contaminate ricche di biodiversità con apicoltori orientati al benessere. Si inizia a parlare di health oriented beekeepers. Ecco quindi la qualità quanto è importante in apiterapia. Ma diciamo anche se semplicemente usiamo il miele come alimento è chiaro che apic sane trattate bene che vivono in un ambiente ricco di biodiversità produrranno dei prodotti più ricchi di principi nutritivi. Questo vale per tutte e per tutti. Quali sono questi prodotti dell'alveare? Miele, propoli, veleno, cera, polline, pappa reale e ai prodotti abbiamo aggiunto anche aroma eh che si sprigiona quindi il profumo che si sprigiona dalle arnie e il bronzio e il beaming. Andiamo a vederli eh questi prodotti che ehm sono molto studiati soprattutto ultimamente. Volevo rapidamente farvi vedere quanti sono gli studi eh i riferimenti bibliografici che troviamo su PubMed digitando per esempio Oney. Abbiamo più di quindicimila risultati e vedete in questo grafico qui a sinistra come solo negli ultimi anni ci sia stata un'impennata dei lavori. Prima era più considerato diciamo zucchero per eh poco di più. Se digitiamo propolis abbiamo più di quattromila risultati. Se digitiamo B pollen quindi il polline delle api più di duemila. B base wax la cera d'api arriviamo a quasi novecento risultati. La pappa reale più di mille. Il veleno d'api quasi settemila risultati. Il veleno d'api vedete come invece negli anni è stato eh studiato da molti molti anni perché è ricchissimo di sostanze veramente molto interessanti anche se è difficile da diciamo maneggiare. Il miele partiamo da dal quello più eh conosciuto usato in assoluto. Non vi sto a fare la ehm diciamo la percentuale, l'analisi nutrizionale, tutto che sicuramente trovate ovunque. Eh lo 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 reimpostare più in maniera pratica. Per esempio l'assunzione del miele sapete che è utile in caso di stanchezza, convalescenza, proprio per i zuccheri eh biodisponibili, il glucosio e fruttosio, il fruttosio è subito biodisponibile e quindi può essere usato anche eh nello sport, nell'allenamento e per il recupero post gara. Eh sono zuccheri eh assorbiti in maniera lenta dall'organismo, non danno il picco come gli zuccheri bianchi che danno il picco di di glicemia e per poi cadere rapidamente mh stimolando l'insulina appunto a battere la glicemia e quindi creando la dipendenza con i picchi di zucchero. Invece il miele dà uno zucchero a rilascio lento diciamo subito pronto ma non dà picchi glicemici. Eh è importante il miele per la depurazione epatica quindi può essere usato come depurativo per esempio un cucchiaino prima di andare a dormire perché ci fornisce quella quantità di glucosio che è indispensabile per il fegato per eh attivare tutti i processi metabolici che si svolgono di notte processi di depurazione di tutto di tutte le tossine diciamo che abbiamo prodotto e assorbito durante il giorno quindi il miele può avere anche questa funzione importante. È utile nella cattiva digestione perché stimola le secrezioni biliari quindi facilita il metabolismo dei grassi ed è un buon regolatore intestinale sia nei due estremi stipsi e diarrea. È anche un buon probiotico nutre la la flora batterica intestinale. Di questo chiaramente eh ci sono infiniti studi quindi vedete le il miele con le proprietà l'attività antibatterica eh né il miele ehm studiato eh per attenuare gli effetti tossici dovuti alla tartrazina che è un colorante eh un colorante giallo quello per esempio la la cedrata eh acqua zucchero e tartrazina dare il giallo è chiaramente eh non fa bene al fegato e il miele riesce a attenuare questi effetti diciamo dannosi studiato nella tosse acuta nei bambini e eh ruolo dell'apiterapia eh nei pazienti con problematiche polmonari croniche. Il miele eh per uso topico anche ha un ottimo effetto perché eh favorisce la eh cicatrizzazione delle ferite e ha un'azione antibatterica grazie alla presenza di un peptide la defensina una che stimola i cheratinociti le cellule che sono le cellule dell'epidermide a ehm appunto a rigenerarsi e quindi a chiudere la ferita. Ha dei meccanismi molto più complessi ma insomma la diciamo la punta dell'iceberg è questa. Ha anche un'azione disinfettante sviluppa acqua ossigenata per ossido d'ossigeno perché il glucosio presente del miele vedete in presenza di ossigeno grazie alla glucosio ossidasi che è un enzima naturalmente presente del miele si trasforma in glucono lattone e acqua ossigenata e quindi sviluppa l'effetto antibatterico. L'effetto e quindi scusate ci sono vari riferimenti eh bibliografici anche qui nella cura delle ferite delle ulcere delle scottature eh è veramente interessante anche per tutti i tagli le bruciature diciamo casalinghe diciamo nella vita quotidiana eh mettere il miele una garza grassa per non far attaccare appunto la medicazione alla ferita e fasciare e vedete che vedrete la ferita si rimargina molto molto velocemente e non si infetta minimamente. Eh c'è una diciamo revisione sistematica sulla cura delle ferite eh poi ehm appunto questi sono tutti i riferimenti sul trattamento delle ferite e anche della defensina una eh uno nella riepitilizzazione sia in vitro che in vivo. Il miele inoltre non sviluppa resistenza batterica. Voi sapete che ultima ultimamente insomma è da un po' di anni che con l'uso diciamo di proprio mh così eh indiscriminato di antibiotici eh molti batteri hanno sviluppato resistenza quindi l'antibiotico non è più utile. Invece il miele per una serie di effetti quali l'aumento della fagocitosi dei globuli bianchi. Crea un ambiente acido che inibisce la crescita batterica. Ha la presenza di fenoli eh che sono dei composti ossidanti che rimuovono il biofilm che ricopre i batteri e quindi interferisce sulla duplicazione batterica e per l'effetto osmotico degli zuccheri sono quindi tutti effetti possiamo dire meccanici non sviluppa resistenza batterica quindi comunque i batteri non riescono a difendersi dal miele e questo è quindi molto molto importante. Quindi il miele così passiamo alla propoli. La propoli è quella forse più conosciuta a livello studiata a livello farmaceutico eh più o meno tutti di noi l'abbiamo usata. È un composto molto complesso ricco di resine, cere, oli essenziali, tracce di polline, glucidi, amminoacidi, vitamine, è veramente ricchissimo. Può cambiare la composizione e in parte anche in base al clima, alla flora circostante, all'ora del giorno della raccolta eh le api bottinano mh la la propoli ovunque eh addirittura in carenza di eh resine degli alberi o di gemme possono andare addirittura prendere le resine eh per esempio sul catrame se nelle vicinanze asfaltano una strada le re e le api possono addirittura prendere resine bituminose dal catrame. Quindi pensate quanto è importante il luogo dove posizioniamo le arnie. E il composto forse più eh importante della propoli è il cape che è il fenil etilestere dell'acido caffeico che è molto studiato ultimamente a livello dei laboratori proprio come estrazione solo del capo e dall'apropoli e per esempio eh riesce a interrompere i canali nutritivi delle cellule tumorali e quindi blocca la replicazione di queste cellule e si sta studiando i ancora a livello in fase sperimentale appunto negli animali eh che se si fa la chemioterapia quando appunto queste cellule sono bloccate dal cape eh chiaramente si possono tenere più bassi i dosaggi della chemioterapia e questa è anche più efficace. Siamo ancora in fase sperimentale il farmaco non è stato ancora sviluppato. Eh la propoli ha un'azione antimicrobica antinfiammatoria utile in numerosissime situazioni come potete immaginare è quindi considerato un antibiotico naturale ha anche un ottimo effetto antivirale. Ci sono studi anche eh recenti appunto sulla propoli eh per combattere per replicare e per inibire la replicazione del covid eh chiaramente è stato studiatissimo e funziona. Regola le tifesi immunitarie un po' tutti i prodotti delle api agiscono sul sistema immunitario potenziandolo. È utile nei processi infiammatori dell'apparato gastrointestinale per esempio in caso di eh ulcere piccole lesioni gastriche eh perché eh riesce a ehm bloccare combattere l'elicobacter in più ha un'azione eh anestetica quindi agisce sul dolore e è chiaramente antinfiammatoria quindi può essere utile in questo caso. È utile nelle paradontiti antitartaro quindi in tutte le infezioni del cavo orale per esempio masticando una eh piccola quantità, un mezzo cucchiaino di propoli grezza in polvere, si mette in bocca, si mastica lentamente, dolcemente perché ehm se no si impasta tutto quindi dolcemente con il calore della bocca, le resine si sciolgono, le cere si sciolgono e si forma come un piccolo ciungam e si inizia a masticare quindi si disinfetta tutto il cavo orale, si rallenta la produzione del tartaro, poi si eh deglutisce questa piccola pallina che avrà un effetto anche a livello eh dello stomaco quindi un uso così molto semplice della propoli grezza e ha un ruolo importante nell'assorbimento della vitamina C visto che la vitamina C è una delle vitamine che usiamo di più eh la usiamo come antiossidante quindi tutti i giorni per riparare i danni dei radicali liberi che normalmente produciamo mediamente le persone sono tutte in carenza di vitamina C quindi la propoli favorisce l'assorbimento della vitamina C che anche prendiamo con gli elementi. Anche qua come abbiamo detto studi di tutti i tipi per esempio questo riguarda la lo studio della propoli nelle mh parodontiti nel sistema immunitario eh questo nel per le sue proprietà antibatteriche e eh questo per eh la ridurre l'infiammazione a livello eh del sistema eh gastrointestinale in particolare nelle coliti quindi anche la propoli riesce a regolare eh e a fare bene alla flora batterica intestinale a ridurre le infiammazioni a livello del colon. Eh la questo studio invece riguarda l'assorbimento la facilitazione e l'assorbimento della vitamina C dopo quattro settimane eh la la concentrazione di vitamina C nel sangue nel gruppo che assumeva propoli era decisamente superiore rispetto al gruppo che non che non assorbiva eh che non aveva assunto propoli. Passiamo al polline un po' meno conosciuto un po' meno usato rispetto agli altri due prodotti. volevo fare questa piccola promessa il il polline non so se qualcuno di voi ha mai visto quello che viene venduto mediamente è secco poi vedremo quello sono queste palline piccoline di polline a loro volta formate da migliaia di granuli minuscoli pollinici che sono quelli che le api appunto raccolgono eh sui fiori e le ehm diciamo le compressano fra di loro fino a formare queste piccole palline. Ora un granulo pollinico che si trova in natura eh ci vuole microscopio per vederlo quindi è piccolissimo è comunque circondato da uno strato di esina che è è uno strato di cellulosa e eh sono queste sono delle dei biopolimodi delle molecole molto complesse che sono difficili da eh disgregare a livello del eh nostro sistema eh gastrico intestinale quindi noi eh suggeriamo sempre di assumere il polline dopo averlo lasciato a macerare a macerare in acqua o in liquido per alcune ore in modo che questo strato ehm di esina si vada a fissurare e quindi viene facilitato l'assorbimento soprattutto la biodisponibilità quindi i contenuti i principi attivi eh sono biodisponibili. Consigliamo sempre polline fresco surgelato eh quindi raccolto così tal quale fatta una piccola pulizia e messo subito nel surgelatore perché così si mantiene eh intatta tutta tutte le qualità del polline e i principi attivi rimangono tal quali. Se questo inizia a essere mh essiccato in modi vari eh chiaramente alcuni enzimi e vitamine le andiamo a perdere. È una fonte di proteine vegetali, è ricco quindi di amminoacidi, ha un'azione antinfiammatoria, antivirale, antimicrobica, quindi modula e difesa immunitaria, migliora i sintomi in caso di allergie per diminuzione della liberazione di stamina. Sembra un po' un controsenso il polline mi crea le allergie stagionali però dobbiamo fare la differenza fra polline entomofilo e polline anemofilo. Quindi quello trasportato dagli insetti e quello trasportato dal vento. Quello trasportato dal vento è quello che mi provoca le allergie. Questo degli insetti eh è molto ben tollerato e addirittura mi eh diminuisce la liberazione di stamina che è eh quello che mi provoca poi i sintomi. Quindi il polline può essere preso due o tre mesi prima eh dell'insorgenza delle allergie stagionali e i sintomi così saranno diminuiti. È ricco poi di ferro calcio ehm che eh biodisponibili è importante questo quindi ben assorbiti controlla l'ipertrofia prostatica benigna per la presenza di licopene e beta-sitosterolo ed è una buona fonte di fenilalanina che è un amminoacido essenziale in grado di indurre un certo senso di sazietà. Quindi è utile nelle diete ipocaloriche perché va appunto a inibire il centro della fame. Anche qui studi clinici quindi proprietà del polline in una review eh studi eh nella BPA che è la l'ipertrofia prostatica benigna eh e il contenuto ai minerali lo vedete sono citati potassio, calcio, magnesio, zinco, ferro e tutti in forma biodisponibile ben assorbibile. Pappa reale principale costituente proteico insieme al polline prodotto dalle api ricca di amminoacidi essenziali chiaramente perché è proteico, vitamine, oligoelementi. È utilizzato come ricostituente generalmente. Si può usare anche per via topica così com'è eh sulle dermatite e nella psoriasi. Può essere utile in caso dei disturbi della menopausa e premestruali perché contiene dei fitoestrogeni ed è proprio per questo che noi non consigliamo di utilizzarlo per lunghissimi periodi soprattutto nei bambini, negli adolescenti perché potrebbe andare in dosi massicce e prolungate a interferire sul sviluppo dell'equilibrio ormonale. Quindi va bene per un mesetto eh dopo una brutta influenza per esempio in convalescenza come ricostituente ma poi se vogliamo per esempio ottenere alte defesi immunitarie nel periodo invernale è più indicato il polline o la propoli. È utile anche in caso di anemia perché è un buon eh ha un buon contenuto di ferro. Si raccomanda di prenderlo sempre al mattino a colazione proprio perché potrebbe avere un effetto troppo stimolante così come il polline e non facilitare eh l'addormentamento. Studi vari eh proprietà antibatteriche eh uso nelle dermatiti come vi dicevo e uno studio anche per attenuare i sintomi della menopausa. La cera la cera anche ha delle proprietà nutraceutiche è una miscela complessa ricca di sostanze organiche eh contiene anche delle sostanze eh coloranti naturali oli essenziali contiene essenzialmente il beta carotene che è una buona fonte di vitamina A e eh può essere utilizzata eh anzi è molto utilizzata nella cosmetica eh perché è un buon emolliente nutriente della pelle e riesce a avere l'effetto emulsionante quindi riesce a stabilizzare le due frazioni acqua e olio quindi nelle creme le stabilizza non si separano le due eh le due sezioni. È utilizzata anche nell'industria alimentare come film protettivo per esempio per avvolgere il formaggio da stagionare quei formaggi naturali poi chiaramente ci sono infinite cere di derivazione del minerale quindi del petrolio e viene utilizzata poi quella ecco nel nei prodotti commerciali. Ha proprietà antimicrobiche contro lo stafilococco la salmonella la candida ehm sono presenti dei policosanoli sono delle sostanze naturali presenti anche nelle patate nella crusca di riso nella canna da zucchero che hanno un buon effetto per eh ridurre eh la biosintesi del colesterolo quindi si sta studiando anche in questo senso può essere utile anche nell'ipercolesterolemia moderata lieve nei casi meno gravi quindi nel per evitare nel mantenimento e quindi la cera d'api potrebbe essere utilizzata anche per l'estrazione dei policosanoli. L'industria farmaceutica sta studiando questo. È chiaro che l'industria farmaceutica cerca sempre frazioni singole per poi brevettare la molecola modificata perché chiaramente non può brevettare un prodotto naturale. Quindi ecco qui uno studio sulla proprietà antimicrobiche della cera ehm l'uso appunto per la ricerca dei policosanoli anche dalla cera di insetti e i policosanoli per l'ipercolesterolemia moderata. La cera è anche utilizzata eh magari insieme al miele alla propoli per la medicazione delle ferite. Arriviamo al veleno d'api che eh è appunto una sostanza da maneggiare con delicatezza eh può essere introdotto nel corpo attraverso l'iniezione direttamente con l'ape in vivo quindi come apipuntura oppure eh il veleno essiccato come apitoxiterapia per esempio viene utilizzato per fare la desensibilizzazione nei soggetti allergici. È di pertinenza medica non c'è a parte l'apitoxiterapia quindi i farmaci per la desensibilizzazione per l'apipuntura non c'è una regolamentazione eh non c'è nessuna parte del mondo se vogliamo essere sinceri. È chiaro che noi diciamo che è di pertinenza medica noi e tutti perché eh ci vuole un medico che sappia fare una una anamnesi corretta valuti il rischio e il beneficio e sappia eventualmente riconoscere ehm un inizio di uno shock anafilattico e eh sappia saper leggere e sappia leggere le analisi eh fatte e quindi seguire un protocollo ben preciso. La melitina è il suo componente più caratterizzante, il cardiopet è un'altra frazione di veleno che ha un'azione a livello cardiaca e viene utilizzata per il controllo di tutte le patologie infiammatorie e degenerative. Eh qui ecco per esempio studiata con meccanismo degli effetti avversi eh l'azione betadrenergica quindi a livello del cuore e eh volevo leggervi appunto eh l'abstrat di questo studio eh dove appunto si 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 evince che il veleno delle api contiene diverse molecole attive come i peptidi e gli enzimi che hanno un potenziale vantaggioso nel trattamento delle infiammazioni e delle malattie del sistema nervoso centrale come il morbo di Parkinson, il morbo di Alzheimer e la sclerosi laterale amiotrofica quindi vedete patologie molto importanti ed è lì che si stanno concentrando gli studi. Attività anche antivirale addirittura contro l'HIV e eh si sta studiando eh appunto strategie di terapie alternative con i costituenti presenti nel veleno d'api. Eh si fa comunque l'api puntura sotto controllo medico eh si può arrivare anche a numerose punture eh durante il giorno eh in una sola scusate in una sola volta però ripeto sempre sotto controllo medico per valutare i rischi e i benefici. Allora abbiamo finito eh i prodotti diciamo classici delle api eh con quello schema che vi ho fatto vedere prima manca il biamming e l'api aroma di cui vi parlerà adesso il dottor Milella. Io volevo solo illustrarvi questa struttura l'api areolistico eh che è una struttura che serve appunto per beneficiare per fruire dell'api aroma e del biamming. È una struttura collaterale e integrativa all'attività apistica sono delle casette di legno diciamo eh collegate esternamente a delle arnie quindi come vedete nell'immagine le arnie hanno un foro posteriore che si collega alla casetta alla parete della casetta il tutto protetto dalle eh da reti chiaramente in modo che eh l'aria delle alveari vada a saturare di profumi e suoni l'ambiente interno. Gli alveari sono collegati appunto tramite delle finestrelle e le persone che vogliono vivere un'esperienza veramente a trecentosessanta gradi eh con le api eh una full immersion all'interno di queste strutture potranno ascoltare quindi il biamming respirare l'api aroma vedere conoscere fare didattica in sicurezza pensate eh in sicurezza eh dentro la casetta in protezione attraverso i vetri eh della facciata l'apicoltore da fuori potrà aprire le arnie e far vedere i telaini e quindi eh le persone possono fare didattica in sicurezza. Scusate è andato avanti da solo comprendere quindi fare meditazione all'interno quindi tutte le eh diciamo discipline olistiche bionaturali eh vengono ben benissimo all'interno dell'apiare olistico oppure e può essere usata come semplice area benessere per riposare e rilassarsi. L'apiare olistico la parola olistico sapete che deriva olos dal greco che significa il tutto e quindi si integra perfettamente con le terapie olistiche che offrono un intervento integrato verso la persona offrendo un percorso che comprende aspetti fisici, mentali, emotivi e spirituali mentre diciamo la medicina classica lavora solo sul sintomo. Quindi l'approccio olistico delle discipline bionaturali. Allora eh grazie alla all'apiare olistico eh si può iniziare a pensare all'apiturismo anche in Italia e eh ce ne sono ormai più di una ventina eh sparpagliati per l'Italia. Vedete sono tutte casette più o meno belle, più o meno grandi, più o meno collegate a servizi ma sempre hanno gli apiari collegati alla struttura interna. Ce n'è uno addirittura con eh la le arni a top bar. Quello che noi ci o uno futurista addirittura, quello che noi ci raccomandiamo è che di essere consapevoli del fatto che avere un apiare olistico significa anche saperlo gestire e costruire nel modo giusto per proporlo al pubblico. È fondamentale quindi la formazione per un'adeguata progettazione, quindi ci sono delle proporzioni per esempio da rispettare per conoscerne tutte le potenzialità, utilizzarlo nel modo più corretto. Questo è un esempio di alcuni fattori da considerare in fase di progettazione, quindi materiali devono essere naturali, proporzioni, posizionamento, arnie collegate come famiglie di api sane, quindi eh materiali naturali non trattati e all'interno li andremo a respirare non solo eh l'aria delle api ma anche tutto quello che magari ci potrebbe cedere un legno trattato. Eh l'apiare olistico chiaramente trascina l'apiturismo che è molto sviluppato per esempio nell'est dell'Europa, è una forma di turismo che si occupa di cultura, tradizioni delle comunità rurali, permette di arricchire le proprie conoscenze sul mondo delle api. È un turismo esperienziale perché all'interno dell'api areolistico andremo a fare proprio un'esperienza eh che permette al turismo appunto di osservare il lavoro dell'apicoltore, di apprendere il metodo di produzione del miele, spesso molti non hanno proprio idea da dove derivi il miele, degustare diversi tipi di miele, scoprire altri prodotti apistici, conoscere il benessere che possono dare le api, scoprire territori rurali ricchissimi di storia e in Italia ogni territorio ha una storia ben precisa. Questa mappa che vedete è pubblicata sul sito di api e benessere nella sezione api areolistici e eh appunto arrivate sulla mappa che è pubblicata su Google attraverso Google Map quindi cliccando sulle varie icone delle casette si apriranno le schede degli api aree vedete gli indirizzi dove sono e cosa offrono. Quindi questo è un'offerta che gli apicoltori, le aziende agrituristiche, ecoturistiche, i comuni eh possono offrire come esperienza in più. C'è anche uno eh qui vedete delle immagini, vedete la didattica in sicurezza eh lettino per fare i massaggi, area relax e eh semplicemente seduti per terra appoggiando la testa alle finestrelle che vedete alle spalle la la sensazione è bellissima. C'è anche uno studio su Research Gate proprio sull'attività api turistiche sono state fatte delle interviste e eh la devo lasciare la la purtroppo nessuna azienda eh api turistica eh rientrata in questo studio perché praticamente sono ancora pochissime e vedete che eh l'apiturismo può avere una funzione educativa turistica salutare e sociale e questo è importante. Si creano ehm posti nuovi di lavoro eh si possono attivare network professionisti e poi ve ne parlerà meglio Piero. Questo è un riassunto di tutto ciò che è apiterapia che appunto consideriamo il benessere attraverso le api dove l'apicoltore vedete che è il fulcro di tutte queste attività con che gestisce la produzione di qualità e gestisce l'apiario olistico quindi a sinistra abbiamo tutti i prodotti eh delle api eh interazione con i naturopati, i farmacisti, i medici, infermieri, i veterinari, eh estetisti e a destra tutti i servizi e quindi possibilità di interagire sempre con operatori olistici ma col comune, con le scuole, con i centri estivi, gli incontri con i convegni, tv locali, comuni e aziende. Quindi vedete come è un sistema molto complesso e ricco l'apiterapia che ognuno può sviluppare eh per il settore che gli interessa. Collaborazione e sinergie sono sempre importanti, produrre, fornire, divulgare è il compito dell'apicoltore e soprattutto collaborazione fra ricercatori e apicoltori che a volte non è proprio così eh compatta. Vi lascio con questa frase diciamo e dobbiamo trovare il modo di lavorare in collaborazione con le api rispettando i ritmi naturali della loro esistenza e sostenendo gli ecosistemi in cui loro e noi viviamo se vogliamo appunto beneficiare dei preziosi doni dell'alveare. Questi sono i nostri riferimenti ma insomma ormai li avete capiti e conoscete bene. Grazie e passo la parola al dottor Milella. Poi facciamo le domande alla fine Sara? Sì infatti innanzitutto ti volevo ringraziare per la chiarissima presentazione insomma ho visto anche gli sguardi dei ragazzi delle informazioni molto preziose e molte delle quali non insomma non erano non conoscevamo quindi grazie e se per te va bene sì le domande le facciamo alla fine. Sì 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 va bene va bene ora sì vorrei lasciare la parola a Piero che ha tante cose anche lui da da dire. Grazie a voi. Piero rientrare. Sì ora mi dovrei mettere come coorganizzatore. Sì l'ho già fatto. Ok benissimo. Puoi condividere. Grazie mille. Grazie mille. Prego. Allora grazie per la pazienza. Io inizierò da questa videata che spero sia visibile. Sì la vediamo. Perfetto grazie. Grazie per il per tutto. Benissimo. Noi non la vediamo qua. Non so se solo io ho problemi. Prima la vedevo adesso è messo in presentazione. Vediamo. Forse c'è un piccolo ritardo. Ecco così si vede. Ok vedete ora? Sì sì ora sì. Grazie grazie mille. Perdonatemi. Allora cercherò di essere veloce. Il problema nostro dell'appiario listico è che è poco conosciuto in Italia. Nel senso che come vi è stato spiegato benissimo da Laura l'idea di apiterapia e l'idea il concetto dell'apiterapia è poco conosciuto in Italia. Ancora meno l'appiario listico. Facciamo un giro. Qui siamo quasi prossimi all'estate e partiamo dall'est. E dall'est perché? Perché già nella pratica comune dell'apicoltura dell'Europa orientale, quindi parliamo di, guarda caso, di stati che facevano parte della struttura orientale dell'impero austro-ungarico. È una questione proprio storica, molto legata all'impero austro-ungarico. Poi ovviamente isolato nel mondo europeo perché faceva parte della struttura russa, quindi delle repubbliche sovietiche. Quindi c'era il muro di ferro che divideva l'Europa. Lì si sono evolute queste tecniche che solo in piccola parte sono state, come dire, copiate e tramandate in Austria. Vedete, le strutture sono delle case. È qui che in Slovenia, in Romania, in Bulgaria, allevano le api. Vedete, sono proprio case, strutture. Questo è concesso anche con queste strutture, con queste arnie, cosiddette arnie slovene. È perfino pensabile trasportarle fisicamente su camion. È una questione che abbiamo scoperto Laura ed io andando in Slovenia. È veramente particolare. Queste strutture, però, cosa hanno determinato? Hanno fatto scoprire delle condizioni strane. Cioè, come capitava tra i contadini, i bambini venivano portati a vedere il lavoro del papà e il papà insegnava al figlio come coltivare. La stessa cosa veniva fatta per l'allevamento delle api. Quindi i bambini venivano portati in queste strutture, come vedete prima, in queste strutture e i bambini venivano a contatto, tra virgolette, con le api. E casualmente si scopriva che i bambini che avevano problemi respiratori tipici delle zone di montagna, che capirete, i Carpazzi, piuttosto che i Tatra e via, soffrivano di questi problemi respiratori. E qui venivano, in queste strutture, in queste case delle api, questi problemi venivano ad essere un po' risolti. La cosa è andata avanti perché ovviamente c'era un grande interesse, c'era anche una grande cultura. Se voi notate, vedete, le arnie sono dipinte, è uno stile proprio di artigianato rurale. Molto strano per noi, perché noi abbiamo invece delle arnie diverse. Abbiamo delle arnie, vedete, queste sono le arnie slovene, si aprono nella parte posteriore e si possono lavorare in maniera diversa, completamente diversa. Vedete, c'è un melario sovrapposto alla struttura del nido e il melario e il nido hanno le stesse dimensioni, molto differenti da quello che è la tipica arnia italiana che si trova. Queste arnie slovene le trovate in Friuli, per esempio, o qualcuno ancora nel Veneto, ma è praticamente una piccola zona, molto di confine. La maggior parte, invece, è così, un'arnia dadant modificata. Infatti, l'esercizio è stato quello di cambiare il paradigma, cioè non più le arnie all'interno di una struttura, ma arnie all'esterno delle strutture. Vedete qui, questa è una fotografia di un appiario olistico, uno dei primi appiari olistici in Italia, ed è anche parte di una beauty farm che sviluppa prodotti anche api terapeutici. Quindi, c'è veramente la prima api farm, api beauty farm. Questo che ora vedete è uno dei primi, proprio forse il primo appiario olistico in Italia, del carissimo Andrea, che ci ha fatto scuola con il padre nella costruzione, nella struttura italianizzata dell'appiario olistico. E poi si è passati a sviluppare risorse nuove, come in questo ultimo caso, mentre il primo è in Basilicati, il secondo è a Marostica, questo invece è a Otranto, ci sono degli sviluppi, delle variazioni sul tema, per instaurare un rapporto con il territorio molto diverso. Che cosa abbiamo guadagnato? Abbiamo degli interni molto più ampi, mentre quegli sloveni sono compatti, perché hanno la presenza delle arnie all'interno della struttura, noi li abbiamo all'esterno. Cosa abbiamo quindi in pratica negli appiari olistici? Abbiamo la possibilità di, come diceva prima Laura Cavalli, di alcuni fenomeni collegati al ronzio e all'olfatto, cioè all'api aroma. Uno diceva, queste sono cose così, un po' strane. Andremo in dettaglio. Gli ambienti più ampi permettono poi di fare api didattica, di avere all'interno una superficie più ampia che è più comoda. Questo perché? Perché ci dà l'occasione di ospitare persone che hanno difficoltà anche deambulatorie. Immaginate una persona in carrozzina, persone che hanno difficoltà a poter conoscere il mondo delle api in un territorio rurale. E per sintetizzare gli effetti degli apiari olistici, ora faremo un salto nel mondo un po' più dettagliato. Incominceremo dal behamming, termine che abbiamo lasciato in inglese, perché il behamming è un termine, tra virgolette, perdonatemi, neutro. Se l'avessi chiamato ronzio, uno può immaginare il ronzio anche della zanzara, va benissimo. Ma l'ape ha una sua, perdonate il termine, voce. Non è facile, guardate, non è facile. Il behamming si intende quindi il ronzio, ma in realtà il ronzio fa parte di un insieme, un pacchetto, perdonate, di vibrazioni che le api producono con la loro vitalità. Cioè va benissimo avere le arnie attaccate a queste cassette, ma le arnie devono essere popolate e devono essere popolate da api vitali, vive, nel senso che hanno una loro condizione di vita positiva, non patologie né riduzioni della loro attività biologica. perché queste vibrazioni si trasmettono all'api areolistico. Queste vibrazioni perché si generano? Beh, perché le api tra loro si trasmettono delle informazioni che noi percepiamo solo in piccola parte quando ci arrivano vicino all'orecchio, o perché ci volano vicine, o perché ci siamo avvicinati alla loro arnia, sentiamo la loro vibrazione, ed è stata scoperta abbastanza recentemente e questo è determinato dai fogli cerei. Sì, è vero che l'ape vibra, l'ape ronza, ha un forte ronzio, però in realtà questo fenomeno viene amplificato ancora di più volontariamente dalle api, sui fogli cerei. E in realtà, vedete, il fogliocero viene ritagliato proprio dalle api. Se è naturale, ha un effetto quasi a forma di cuore, perché si sviluppa in questa maniera un effetto di risonanza che l'ape ha necessità di avere come fenomeno acustico per poter comunicare con il maggior numero di api. Questo non lo dico personalmente io, perché lo vedete sul famoso libro Il ronzio delle api, pubblicato qualche anno fa dal professor Tauz, con bellissime foto di Helge Heilman, che ha, come dire, introdotto il fenomeno dello studio del ronzio. Tanto che lui aveva creato un termine, area di ballo, dove le api, sapete, trasmettono le indicazioni, si trasmettono le indicazioni e le informazioni sul luogo da bottinare. Era stato scoperto già all'inizio del 1900, ovviamente, da Von Frisch, ma questa danza, ma è stato poi con le tecniche di microtelecamere, come dire, migliorato, studio, poi è stato migliorato con accelerometri particolari, non solo microfoni, ma anche accelerometri, e si è notato che le api comunicano in una maniera enorme, tanto che hanno questi picchi normalmente per la comunicazione con una zona che va un po' più dei 100 Hz fino a una zona di picco dei 250, 230, 270 Hz, poi scende questa, vedete qui c'è proprio una discesa, una gola, e poi una risalita che si spegne ai 600 Hz. Quindi queste frequenze registrate con gli accelerometri, che cosa ci dicono? Ci dicono tante cose che le frequenze sono udibili anche da parte nostra, abbiamo uno spettro, si dice, normale dai 20 ai 20.000 Hz, ed è una zona molto bassa. Questa cosa deve farci pensare. Ma non è soltanto importante lo spettro delle frequenze, ma come queste frequenze si trasmettano lungo i fogli cerei. Si trasmettono in maniera particolare, vedete, sono dei treni d'onda di nanosecondi. In più poi le appi hanno altre voci, hanno l'effetto del tooting, hanno l'effetto del quaking, e perfino quello del leasing. Che cosa sono? Non ve le ho potute mettere, perché altrimenti questo incontro sarebbe stato lunghino. Il tooting è il caratteristico suono registrato perfino da Virgilio, il quale riconosceva la nascita delle regine e la loro nascita dalle vibrazioni, il tooting. Il quaking è invece la ricerca delle api vergini, api regine vergini, che vanno alla ricerca dell'ape regina madre per dire sono nata e ora, se vuoi, facciamo pure un duello. L'easing invece è una scoperta recente dovuto al test involontario ahimè, sulle api per capire la capacità dell'ape di registrare dei certi fenomeni e l'easing è in realtà una frequenza acutissima che l'ape emette quando viene danneggiata. È un sistema di allarme acustico elevatissimo, arriva quasi ai 20.000 Hz. Quindi l'ape ha una banda enorme di frequenze che noi dobbiamo conoscere. Non solo, ma l'ape vedete in questo articolo che cosa fa? Trasmette delle informazioni complessissime non solo la posizione rispetto al sole, alla luce polarizzata, alla direzione contro il vento, cioè ci sono delle informazioni che viaggiano ad alta densità che permettono di conoscere altre informazioni oltre che quelle di Von Frisch e anche queste vibrazioni però non sono mai continue, sono vibrazioni circadiane nel senso che a seconda del momento della giornata si amplificano certe vibrazioni e si riducono altre. Questo perché? Questo fenomeno mi ricorda molto e ve lo faccio sentire, spero che lo possiate sentire, un rumore strano, il cosiddetto pink noise che ora vado a farvi sentire. Spero che si senta. Questo pink noise è uno spettro solo ok, è lo spettro di emissioni sonore generate da una legge matematica fondamentalmente suoni a bassa frequenza che secondo questa legge matematica si riduce come intensità a seconda della lunghezza d'onda cioè alla frequenza. Genera un segnale più denso in frequenze basse rispetto al white noise così come la luce bianca la luce rossa la luce che poi passa attraverso un prisma questo è il questo questo strano suono il pink noise ha avuto un grande successo già all'inizio degli anni sessanta per qualcuno di voi non ha un grande ricordo ma in realtà questo rumore rosa è stato da anni valutato come uno degli strumenti per migliorare il sonno e la memoria le due cose sembrano assurde sonno e memoria ma come credo sappiate durante alcune fasi di sonno le nostre cellule gliali gli astrociti cerebrali hanno producono dei fenomeni di detossicazione cerebrale per cui questa detossicazione cerebrale migliora di molto la memoria i signori che erano esposti al al suono dei ripetitivo quasi subliminale del pink noise registrava un miglioramento a livello cerebrale delle onde cerebrali una cosa stranissima stranissima guardate questo è un lavoro di aprile di due anni fa ma ovviamente ci sono tante altre caratteristiche così come vedete questo altro lavoro che vi riporto che cosa dice guardate è un lavoro anche questo del 2020 e segna un significato molto positivo dell'esposizione al pink e al red noise ma il pink noise e il red noise migliorano la capacità di giudizio e perfino questo fenomeno migliora anche le capacità di veramente di produttività perché una gente che una persona che dorme bene si sveglia bene e non c'è bisogno di un materasso particolare perché quando si dorme bene il materasso tra virgolette è quasi secondario negli appi aereolistici oltre perché vi ho fatto questo paragone perché avete sentito il rumore del rumore rosa è sgraziatissimo veramente bruttissimo comparato al ronzio che si sente in un'arnia e come possiamo permetterci di farlo sentire in piena sicurezza a un bambino a una persona anziana dovrebbe avvicinarsi così al rischio di essere punto vicino un'arnia qui invece nelle strutture della pianolistico questo fenomeno è risolto passiamo a un altro fenomeno divertentissimo cari cari amiche cari amici che è la Roma terapia l'abbiamo sempre messa da parte perché è quasi una magia beh non è proprio così lo vediamo piano piano qui vi riporto una battuta guardate come la lingua e gli studiosi inglesi poi certe volte utilizzino anche i fumetti per farci comprendere quanto sia importante la respirazione mitocondriale e che c'entra la respirazione mitocondriale con il la Roma terapia e c'entra c'entra moltissimo perché nelle nella pianolistici quello che stiamo cercando di come dire di introdurre ed ecco qui la socialità ecco qui l'importanza di parlare a voi che siete molto avanti intellettualmente di comunicare questo fenomeno della migliore condizione respiratoria proprio perché perché il miglior respiro la migliore quantità la migliore qualità di respirazione influenza le nostre capacità mentali influenza non solo le nostre capacità mentali ma il nostro corpo in generale lo scambio con l'esterno non solo migliora perdonatemi la PO2 la PCO2 va benissimo ma anche un fenomeno particolare perché in un apiareolistico noi introduciamo con l'inspirazione anche degli aromi questo fenomeno è un equilibrio che però non è un equilibrio che uno dice è quasi statico ecco come in questa immagine è tutto un equilibrio basato sul peso no guardate l'equilibrio reale teologico è un equilibrio dinamico quindi noi che entriamo in un apiareolistico e vi prego veramente cercatevi cercate di vivere questa esperienza abbiamo delle subiamo tra virgolette subiamo degli effetti collaterali e rispondiamo istantaneamente quindi non è un equilibrio statico è sempre dinamico noi viviamo un equilibrio dinamico altrimenti non ci sarebbe vita il nostro sistema olfattivo ci è stato insegnato avviene fondamentalmente nella parte iniziale del naso nella cavità diciamo superiore dove arriva il bulbo olfattivo e poi sfiocca in questi in queste strutture neuronali esterne che sapete bene sono immerse questi recettori sono immersi nel muco che viene prodotto dalle cellule accanto alle cellule nervose la produzione del muco è importantissima anche per capire dei fenomeni questi fenomeni di mancanza di muco cosa danno danno purtroppo la morte la morte la morte delle cellule nervose perché si essiccano le parti esterne dei neuroni e quindi vanno incontro a una morte proprio biologica il muco viene rinnovato si pensa ogni 7-8 minuti e infatti noi abbiamo ondate olfattive di questo tempo strano cioè il muco scivola verso la gola e lava le capacità lava i terminali i recettori olfattivi e che diventano nuovamente attivi ovviamente nel muco sono contenuti anche degli antibatterici e antivirali che migliorano perfino la qualità e la durata di queste cellule il tutto però è collegato a un sistema che all'epoca mia veniva indicato come paliocefalo cioè l'antico cervello forse il termine ora non è più d'uso ma era l'ipotalamo e il talamo con le strutture delle amigdale e l'ippocampo ora il bulbo olfattivo arriva a direttamente contaminazioni sull'amigdala e quindi attiva dei processi complessi che sono processi per la maggior parte inconsci dovete pensare perdonate parlo parlo a chi probabilmente già sa benissimo queste informazioni ma per qualcuno sono nuove immaginatevi di essere di ritornare scimmie di scoprire nella in una vegetazione densa il nemico che sta lì pronto per aggredirci e lo percepiamo non a vista perché la la visione è intercettata da foglie rami tronchi ma dall'olfatto quindi l'olfatto agisce come prima prima riconoscimento di un rischio che viene realizzato mentalmente dopo molto tempo cioè stiamo parlando di nanosecondi molto tempo dopo realizziamo che c'è un rischio mentalmente e questo grazie alla capacità che hanno si è scoperto avere nelle amigdale che sono dei centri direi di memorizzazione a tempo prolungato fenomeni biochimici qui vedete il sistema limbico quindi con l'amigdala e l'ipocampo sono sistemi l'ipotatomo sono sistemi incredibili perché maneggiano informazioni mnemoniche tutto questo discorso poi si trasmette anche noi si dice non abbiamo il senso dei feromoni ahimè credo che ci stiamo sbagliando i feromoni li percepiamo ma li percepiamo in maniera inconscia e quindi ormai sembra occorrerà un nuovo Jung per scoprire questa visione li percepiamo lo si sa benissimo la sincronia ormonale lo dimostra ed è basato sul sistema limbico infatti dal sistema limbico vedete quante risposte si attuano in maniera veramente inconscia questo a che ha a che fare con la piaroma terapia beh no è importante perché guardate il nostro DNA DNA umano stiamo parlando di DNA umano ha 900 geni che codificano le proteine che catturano gli odoranti gli odoranti sono le molecole dei recettori olfattivi ma solo 400 sembrano essere attivi attenzione sembrano essere attivi sembrano essere attivi ma noi sappiamo che con l'epigenetica alcuni fenomeni possono mutare nel tempo teniamolo a mente teniamolo molto a mente in più poi c'è una grande variabilità ecco come spiegare questi 900 geni c'è una grande variabilità guardate l'andolo stadionone è un qualcuno lo definisce un odore stimolo sessuale in altri siccome assomiglia per altri a urina è percepito come un odore sgradevole quindi è compatibilmente con quelle esperienze fatte in pregresso nell'apiareolistico molte sono le fonti degli odoranti il miele uno pensa sarà il miele poi pensa la propoli l'avete visto no poi la cera perché comunque la cera fa da ammortizzatore di questi odori e lo sapete benissimo è una sostanza grassa fondamentalmente e quindi assorbe alcuni odori ma poi dovete pensare che stiamo parlando di migliaia di insetti e la cera chitinosa di questi insetti ha un odore determinato da queste catene di molecole carboniose il CHCS che forma l'essoscheletro delle api stiamo parlando sempre di cere ecco poi c'è il veleno che ha un odore i pollini o il pane d'api e poi il materiale di costruzione in questo caso il legno talvolta perfino la vernice bene in tutto questo accrocchio di sostanze odorose quello che si è notato che dà maggiore enfasi è il polline sembrerebbe assurdo ma è il polline comunque questo effetto guardate il miele 600 molecole volatili 600 molecole volatili una quantità incredibile ovviamente la volatilità di questi composti e il numero di questi composti è miele dipendente quindi voglio dire fonte floreale o di insetti voi sapete che ci sono mieli bottinati da fiori e mieli prodotti dalle escrezioni di afidi quindi queste sostanze sono variabili e comunque ce ne sono 600 in generale propoli guardate questo è un caso che vi riporto perché è stato sviluppato in Italia quindi va benissimo e guardate quante ce ne sono cioè è il vero il vero gruppo di api è presente proprio come un fenomeno odoroso che è determinato perfino dalle api stesse perché il loro intestino che è colonizzato da batteri produce l'effetto che il loro citoscheletro è odoroso per condivisione degli stessi batteri in famiglia probabilmente le famiglie diverse si annusano tra di loro le api che controllano l'ingresso delle api controllano l'odore della cuticola quindi e se la cuticola è diversa da quella propria ha un odore diverso quindi attenzione stiamo ancora all'inizio stiamo ancora all'inizio il fenomeno dell'ambiente dell'odore è così importante che ha portato guardate nel 2014 a questo a questa a questa ricerca che dà ragione a quelle esperienze antiche dei degli apicultori che portavano i bambini i loro figli o i bambini ammalati di asma o di problemi respiratori all'interno delle strutture apistiche perché vedete se io induco nel coniglio un'asma cronica con l'ovalbumina l'odore l'inalazione l'odore proprio del olfattivo quindi l'appia roma riduce l'infiammazione delle vie aeree e se leggete la conclusione non mi mancano ovviamente la conoscenza dell'inglese scoprite che c'è bisogno assolutamente di andare avanti in questo tipo di ricerca perché capirete bene che per risolvere un problema di asma si ricorre velocemente al cortisone proprio perché c'è bisogno di dare una soluzione rapidissima e voi capirete bene qual è il significato in un bambino dare una molecola così importante questa immagine che ho prelevato da un sito della Serbia fa vedere come si siano sviluppate delle tecniche che ora in periodi di post-covid sarebbero figuriamoci nel periodo di covid sarebbero state vietate e che sono state da capo riprese appena il covid è un po' diminuito ho visto ora delle fotografie che provengono dall'Albania si sono ripresi centri di respirazione per problemi asmatici ovviamente capirete bene che questa procedura prevede boccagli prevede filtri e dovrebbero essere tutti sanificati o dovrebbero essere tutti personalizzati che significa molto però loro hanno dei grandi vantaggi noi nell'atariolistico abbiamo un fenomeno complesso vi ricordate la Tatui il fenomeno della sinestesia cos'è altro la sinestesia che io a causa dell'olfatto sento posso percepire anche altre sensazioni che possono essere perfino colori che possono essere immagini ed è un fenomeno che avviene realmente negli apiariolistici cioè la gente ha delle percezioni alcuni hanno delle percezioni strane vi dico questo perché sembra una cosa assurda un po' nel film di Disney però avviene ma la cosa più bella cari amiche e cari amici è che gli effetti dell'aromaterapia non si fermano nell'aspetto solo respiratorio vedete questo questo schema fa comprendere in quali strutture sono presenti i cosiddetti recettori olfattivi ectopici cioè quelli che sono presenti in altri tessuti che non si hanno nel naso parliamo degli occhi cioè perdonatemi recettori olfattivi negli occhi a livello cerebrale a livello di pelle e poi le vedremo ancora a livello di cuore di fegato di pancreas di reni di prostata nei testicoli cioè guardate questi recettori hanno una loro funzione tant'è vero che si sono studiati nei recettori della pelle in questo esempio nei cheratinociti e con odoranti come il sandalore e l'ossifenolina o l'ossifenolone queste sostanze attivano attivano veramente le cellule tant'è vero che si sono migliorati i tempi di cicatrizzazione guardate questi esempi che vi porto sono prelevati da queste ricerche che non sono poi tanto vecchiotte quest'ultima poi ancora più più recente di di aprile con gli effetti sulla pelle ora immaginate che cosa significa immergersi in un apiario olistico con un un odore un suono particolare perché il suono del ronzio delle api è veramente debole nel senso che viene percepito subito poi piano piano quasi scompare perché ti si ti tuffi in questo ambiente e l'odore di questi di queste sostanze di queste molecole odorose come il polline il miele l'apropoli e il resto incominciano a circondare il corpo immaginate che significa per un corpo con dei cheratinociti con i loro recettori olfattivi presenti sulla pelle guardate in letteratura so che sembra scandalizzarsi il massaggio fatto a soggetti con problemi neurologici e con l'olio essenziale di lavanda ha dato degli ottimi risultati e quindi è da meditare non veramente da meditare questo fenomeno determina un rilassamento tipico della gente che entra entra così per curiosità e poi piano piano si rilassa uno direbbe ma come mai beh si rilassa perché avvengono tanti fenomeni collaterali che qui sarebbe difficile sintetizzare e questi con una riduzione dello stress ed è quello che noi cerchiamo a livello sociale di trasmettere agli apicultori che faranno utilizzeranno gli appiari olistici perché devono essere come dire entrare in questo sviluppo dell'appiario olistico che è sulla delle loro competenze con il respiro con la capacità di rilassamento con meditazione con soggetti addentro a tecniche particolari perché bisogna l'ambiente all'interno dell'appiario olistico permette una riduzione veramente della contrattura quasi muscolare dello stress e in un ambiente così come questo uno cosa direbbe uno guarda fuori sente un profumo bellissimo perché poi il legno piano piano si impregna di questi odori cerosi di questo odore vanigliato del miele e quindi entri in un ambiente profumato con questo lonzio sottofondo e che in silenzio perché non devi dar fastidio alle api le quali sentono la presenza dell'uomo lo capiscono lo percepiscono perché hanno un sistema olfattivo potentissimo oltre che la sensibilità dei campi bioelettrici quindi le percepiscono già da prima e noi piano piano ci immergiamo in questo ambiente idee pratiche si parla di esercizi sociali come il il massaggio piuttosto che il reiki o anche le pratiche di respirazione come questa del Bramari Pranayama ma anche tecniche di respirazione quasi meccanica ci sono tanti sviluppi li potremo valutare tutti insieme io non voglio ora tediarvi tanto però guardate vi parlo soltanto del così giusto del Bramari Pranayama è una tecnica come vedete in questa immagine di chiusura sia degli occhi sia delle orecchie e emissione attraverso il naso attraverso le labbra di un suono che ricorda il ronzio delle api Bramari infatti significa ape una ape scura tipica dell'India e il Paranayama è il respiro con il suono dell'ape guardate questi lavori sono che vi riporto se voi notate in questo ultimo che ora vi faccio notare guardate che cosa migliora c'è di 15 volte la generazione di osido nitrico quindi è l'indicazione che c'è un fenomeno di miglioramento a livello dei vasi ha caratteristiche particolari immaginate in una struttura che a livello olfattivo a livello di vibrazioni immaginate tutto questo fatto con soggetti bambini per esempio come in questo caso persone anziane ecco tutto questo mondo di condivisione di persone che hanno difficoltà immaginate qui nel caso una persona che ha una frattura una persona ipovedente gli permettete di vivere un'esperienza a contatto con le api che non avrebbe mai vissuto una persona anziana idem e dei benefici tra virgolette riflessi diciamo riflessi giusto per dire dobbiamo farlo perché questa è un'operazione sociale che con insieme dell'apiterapia insieme anche all'apicultura e all'apiturismo può sviluppare anche una nuova progresso sociale almeno sociale io direi se siete d'accordo sospendo perché poi c'è la valorizzazione dell'esperienza ed è una cosa molto soggettiva e così come anche le interazioni giusto per raccontarvi la mia esperienza ho avuto la possibilità di insegnare qualcosa di apicultura e di apiterapia in un carcere per delitti sessuali e ovviamente era un gruppo molto piccolo però alla fine era il messaggio era della socialità ritorno nella socialità questa l'apicultura e l'apiterapia permette di parlare di api un essere molto sociale che ha comunicazioni sociali anche con noi guardate e quindi è un mondo della risocializzazione sforziamoci di farlo apprendere perché ne godremo tutti un beneficio quindi vi ringrazio resto alle vostre domande e interrompo la condivisione grazie mille Piero grazie per la passione sia tua che Laura con cui hai condiviso queste informazioni queste vostre esperienze queste vostre ricerche e questi argomenti in genere siete stati entrambi molto molto chiari ed appassionati ci avete veramente coinvolto allora io se siete d'accordo Laura e Piero parto subito con delle domande che hanno fatto sulla chat allora c'è Ilenia Fratini che chiede innanzitutto la struttura comunicante con le armi oltre che trasmettere aromi e ronzio potrebbe esporre al veleno che comunque è presente nell'aria questo non potrebbe esporre rischi di sensibilizzazione chi risponde Piero rispondo da io non credo cara Ilenia hai ragione bella domanda allora vediamo se sono all'altezza della risposta alla domanda intelligente beh le api comunicano fra di loro anche attraverso il veleno devi sapere che il veleno è un forte microstatico e antibiotico loro lo usano spalmandoselo sulla cuticola questo secondo alcune nuove ricerche e quindi sono odorose di veleno tra virgolette però guarda è più tra virgolette più sensibilizzante la propoli che il veleno quindi no direi proprio di no tra l'altro siamo ancora e io spero che la vostra università possa portare avanti questo tipo di indagine perché è veramente di confine queste sostanze hanno odori hanno emettono questi corpi delle api emettono i loro profumi saranno feromoni saranno quello che volete piccole quantità per milioni sono d'accordo però profumano loro di queste sostanze il CHC è fondamentalmente anche della loro cera cuticolare ma anche di veleno direi che no ecco direi per rispondere no non è quello non abbiamo questa negli sviluppi non abbiamo avuto questa sensazione anche perché alcune molecole ecco alcune molecole che noi conosciamo del veleno d'api sono molecole ad alto peso molecolare molto stabili a livello di temperatura tant'è vero che se non vado errato Laura correggimi 120 gradi non fanno assolutamente nulla alcune molecole quindi sono stabili non evaporano ecco no ma poi non ne abbiamo mai ricevuto notizia di questo chiamiamolo effetto collaterale e nell'est veramente addirittura con le maschere come vi ha fatto vedere Piero l'inspirazione di tutta l'area dell'alveare è fatta in maniera ancora più massiva quindi direi che sotto quel lato possiamo stare tranquilli bene grazie Piero grazie Laura e grazie Elena per la domanda Elena ne fa un'altra di domanda dice c'è un differente effetto sui sessi essendo il corpo calloso del sesso femminile più sviluppato e quindi una miglior integrazione sensoriale non so scientificamente non saprei rispondere io non ho trovato studi che ne attestino penso che sia molto una questione di allenamento e di differenza proprio che puoi sviluppare con l'allenamento tutti gli odori no Piero non so se puoi aggiungere qualcosa di più tecnico Elena fa la seconda domanda intelligente molto non è una curiosità è un dato di fatto abbastanza noto che avendo silenziato parte del doppio cromosoma X le donne abbiano sviluppino delle sensazioni che gli uomini non hanno questo è sicuro molte donne hanno dei sensi olfattivi più elevate cioè come qualità proprio come tendenza siete molto più avanti dei maschi ad avere delle percezioni olfattive non è chiaro probabilmente è dovuto appunto all'effetto del silenziamento parziale di alcuni geni che nell'Y non sono presenti però senza ora questo fenomeno sarebbe bellissimo da valutare singolarmente cioè si era pensato a un progetto nel quale registrare come dire il favore di frequentanti il lappiario olistico e di registrarli in maniera perdonatemi asettica con telecamere che misurano dei dati di come dire percezione positiva o percezione negativa ovviamente l'abbiamo portato avanti con piacere proprio come sviluppo ma ahimè poi ci si arenati perché mancano le perdonate le competenze e un'università invece ce le ha le competenze per poter andare avanti su questo tema credo che sia importantissimo proprio proprio favorire una struttura come la Politecnica io ancora no era intendi Piero quello che misurare le frequenze emozionali che si possono generare no stando all'interno dell'apiareolistico intendi quelle era un vecchio discorso sugli effetti collaterali da diciamo riconosciuti attraverso delle telecamere di come dire partecipazione attiva no quello oppure c'è proprio anche quella persona che voleva misurare le frequenze appunto a livello emozionale quindi fare una specie di diagramma di quello delle onde cerebrali e del battito cardiaco per poi assimilarle ad altre cose diciamo che sarebbe molto interessante fare studi inventare qualcosa all'interno di un apiareolistico di questo tipo sarebbe male assolutamente potrebbe essere una bella tesi sperimentale c'è un aviareolistico più vicino a voi è uno molto piccolo uno dei primi che è stato creato ed è a Genga ma sì che non so bene quanto dissi so che è in provincia di Ancona di più non so ma in realtà noi vorremmo anche organizzarne uno qua nel nostro orto botanico quindi magari meraviglioso sarebbe esatto esatto magari questo contatto potrebbe continuare sì allora professoressa il concetto è semplicissimo dobbiamo far conoscere i lati positivi dei prodotti alimentari tra virgolette alimentari delle api valutando non solo gli effetti noi sappiamo il resveratrolo famoso resveratrolo del pomodoro delle vinacce è presente anche nel miele è presente nel polline cioè vedi no? però quando si parla di resveratrolo si parla di vino e lì è il marketing che ha fatto ecco manca il marketing sì è vero no no teniamolo a mente questa cosa poi a Elenia Elenia penso che abbia un'altra domanda Elenia è carichissima ho passato la mano scusate prego non so se mi sentite sì mi sentite ok volevo cioè questa magari è più un'idea visto che avete detto che avete diciamo un apiariolistico ammarostica avete pensato magari a una collaborazione con l'università di Padova in cui comunque c'è un importante università di psicologia in particolar modo con le neuroscienze allora non abbiamo ancora non siamo ancora arrivati lì a Padova ma possiamo anche perché la VBA ha la sede lì nel Veneto quindi ci possiamo arrivare dipende molto anche dalla disponibilità della persona che gestisce l'apiariolistico in questo caso ci sarebbe ma dipende anche dalla distanza dalle città dell'apiariolistico perché per fare queste ricerche bisogna ingaggiare persone che devono avere facilità poi ad arrivare nell'apiario quindi è un fatto molto anche relativo alla logistica per poter fare questi studi quindi vediamo come possiamo organizzarci io credo che la domanda sia come al solito da capo non voglio essere giusta io credo che strutturando un'apiariolistico ben fatto all'interno di un campus di ricerca si abbiano più capacità di interazione tra le varie i vari elementi dell'università i vari anche gruppi di ricerca dell'università perché sono temi enormi se voglio dire se è del 2014 la ricerca che i conigli fatti diventare asmatici migliorano soltanto con l'odore del miele l'odore del miele eh perdonatemi no? quante cose positive possiamo portare avanti a livello sociale a livello di comunicazione ma ma quanta gente perdonatemi caso tipico che mi è stato detto a Otranto soggetto covid positivo della primora un uomo anziano ma sempre rimasto atletico fame d'aria si portava la tanichetta d'acqua perché ogni due per tre doveva oltre che fermarsi bere acqua perché aveva si sentiva i polmoni bruciare gli è stato detto dal medico vecchio tipo fai fai una vai vicino al mare forse ancora se lo può permettere però immaginate uno nell'entroterra e questo ha saputo amichevolmente della presenza dell'appiario olistico di lì è andato giusto per curiosità e l'ho frequentato per qualche volta e ogni volta diceva mi raccontava veramente ero impazzito ero impazzito ho smesso di utilizzare la terza gamba perché mi portava sempre a presso un per tirarsi su un bastone ho incominciato a respirare meglio non so perché non so perché e ora dopo due mesi che mi hanno detto no guardi ci vogliono dai sei ai nove mesi per recuperare una parte della sua funzione io lui era poliziotto comunale quindi un vigile urbano ho ripreso un'idea che posso camminare e respirare e sento gli odori infatti è che è poco conosciuto sono tutti in posti un po' difficili da arrivare quindi però le potenzialità sono veramente tante 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 io c'ho una domanda da entomologa ahia ahia no nel senso eh ormai è chiaro che effettivamente insomma lo avete spiegato bene e siete state anche molto convincente del fatto che effettivamente l'apiterapia serve e bisognerà approfondirla bisognerà insomma in qualche modo divulgarla non è una non è una sostituzione no di quella che è la medicina ma sicuramente è una integrazione di quello che è la medicina tradizionale quindi questa cosa è molto buona ora però io guardo per deformazione professionale il mondo con gli occhi delle api quindi vi faccio una domanda sulla salute delle api è molto è molto bello quello che ha detto Laura ed effettivamente ancora di più andiamo a sottolineare con i ragazzi ne abbiamo parlato spesso la necessità effettivamente di un ambiente sano perché poi dopo ci si riflette contro no ci si riflette proprio anche su di noi sia in quello che mangiamo ma a questo punto anche quello che respiriamo eccetera quindi ancora una volta dobbiamo far forza nel far capire a tutti che abbiamo bisogno di vivere sempre più in un ambiente sano ed una gestione razionale dell'apiario quindi una una forza alla famiglia che deve essere importante una famiglia che sta bene che vive in un ambiente buono e una tecnica apistica perché da quello che ho capito è molto vincolato anche dalla capacità dell'apicoltore a rispettare le api in quanto esseri viventi autori e non assolutamente non assolutamente diciamo adatticate perché le api non si adomesticano però io vi chiedo ho visto che le arnie sono collegate con una retina all'interno della casetta ci sono studi che sono stati condotti per capire se le api in qualche modo vengono influenzate positivamente negativamente non influenzate ovvero una famiglia forte con questa retina anzi la domanda a Montella la retina rimane questa rete rimane sempre aperta o la si apre solo quando effettivamente c'è qualcuno che entra nella casetta si apre allora infatti ci devono essere dei tappi diciamo dei coperchi per chiudere quando non viene utilizzata la coperca la casetta proprio per il rispetto delle api che devono rimanere al buio anche perché se no propolizzerebbero la rete molto velocemente e quindi questa andrebbe cambiata e quindi comunque ogni tanto andrà cambiata quindi si apre lo sportellino tipo uno poi dipende dalle dimensioni dal numero delle arnie collegate un tot prima di fare la seduta dentro l'apiario poi i prodotti utilizzati proprio per non stressare per non stressare le api anche abbiamo inventato questo metodo italiano diciamo rispetto al metodo con la maschera il boccaglio come vi ha fatto vedere Piero e il motorino che è leggero comunque aspira l'aria dall'arnia e lo forza nel tubo che comunque quello va a stressare le api perché è un motorino vibrazioni quindi quello sicuramente non è positivo per le api il nostro sistema lo riteniamo più rispettoso delle api non ci sono studi chiaramente perché è tutto nuovissimo e l'apicoltore che gestisce quelle arnie deve usare appunto meno prodotti possibili per il rispetto delle api ma anche perché se no li andremo a respirare noi stessi quindi se si fa un trattamento comunque ammesso dal biologico per i due tre giorni successivi non si userà l'api ariolistico parliamo anche solo di acido ossalico e le famiglie collegate devono essere sempre forti e sane quindi se io collego cinque arnie alla casetta ne devo avere almeno altre tre quattro a disposizione per eventualmente fare dei cambi però studi proprio non ce n'è perfetto direi no? no potete farlo domando domando a qualcuno dei presenti se hanno mai avuto in casa l'acquario con i pesciolini ok ecco quello è il motorino che aspira l'aria dall'interno delle arnie un rumore tra virgolette assordante per le api ecco figuriamoci perché vibra tutta l'arnia tant'è vero che una delle aziende tecnologiche che si è emancipata in questo sviluppo proponendo gli apicultori nord orientali gli apicultori che hanno queste strutture è quello di costruire una specie di cupolino con materiali fonoassorbenti che devono essere sovrapposti all'arnia figurate cioè praticamente ritorniamo a quello che abbiamo visto in Italia cioè l'arnia si apre da loro da dietro ma loro sono costretti a mettere da sopra il cupolino io non so se posso farvelo vedere cioè è un cupolino di plastica con a livello piramidale sopra c'è il motorino e tutto attorno una gomma che tende a smorzare le vibrazioni perdonatemi ma non esiste gomma che tenga alla vibrazione infatti le api comunque lo percepiscono esatto dobbiamo tenere in considerazione il sistema recettivo delle api e non il nostro noi qui abbiamo altre domande vai scusa un attimo lo sentite no poi chi era c'era una parte del ronzio delle api quindi il bioming diceva tutti in cuoking e easing io volevo sapere se hai visto gli ers diversi ci sono studi da parte dell'uomo se abbiamo 25 diversi in base a quello che ascoltiamo oppure no questa era un po' più una curiosità che altro perché dicevate che c'erano rumori diversi quindi mi chiedevo se c'era anche una reazione da parte dell'uomo diverso in base al rumore che sentiva allora Virgilio nelle bucoliche dice che quando sentite il suono quasi simile di una trombetta che è il periodo in cui si genera la sciamatura quindi stiamo alla maturità sessuale perdonate ma è così è cioè è la maturità sessuale del superorganismo olobionte ape ecco questo suono veniva percepito dall'esterno e i romani gli antichi latini andavano con strumenti rumorosissimi per scoraggiare la l'uscita delle api oppure si ricorrevano alla a delle erbe che ormai che ho identificato con l'aiuto di un di un botanico perché le api sono attratte in una maniera stranissima da queste da questa erba che veniva spalmata dagli antichi dagli antichi all'interno delle strutture per essere affascinate e guidate in nuove strutture il purtroppo sia il timbri sonori sono stati scoperti recentemente grazie a microfoni avvengono in alcuni periodi come ora o anche prima la sciamatura quindi sono periodi molto particolari nella intimità della famiglia dell'ape durano pochissimo perché durano qualche qualche giorno e gli effetti sono flash cioè non possono essere né predetti né anticipati con grande sicurezza quindi studi non ce ne sono quello del del leasing ancora peggio cioè quello era un test vi ripeto per valutare la capacità intellettiva dico intelligo alla latina dell'ape e si premiava con o il miele con lo zucchero o con la scossa elettrica e quando si dava la scossa l'ape emetteva un suono lissing c'è tanto di ricerca però probabilmente la emette solo quando schiacciamo un'ape quindi direi che sono suoni tra virgolette rari rispetto al ronzio articolato molto complesso circadiano di salute di salute ecco professoressa lei ha ragione è l'importante avere le famiglie sane e famiglie anche piccole non c'è bisogno di che siano enormi ma sane sane perché la loro frequenza è importante e eh già grazie 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 per la risposta soprattutto per lissing anche se dovessimo trovare qualche beneficio insomma non so se poi dopo le api accetterebbero di essere schiacciate schiacciate vieni chiara un'altra domanda vi stiamo tenendo più del previsto ci perdonerete non c'è problema per noi io avevo intanto grazie ehm avevo una curiosità innanzitutto in merito a quello che abbiamo detto prima degli odori sulla modalità no che nell'italiana sostanzialmente più per diffusione rispetto all'aspirazione che probabilmente anche meglio mi viene da dire proprio per l'ate come comunicazione interna anche all'armia cioè loro comunicano tanto con la componente odorosa quindi una diffusione essendo più lenta probabilmente anche più rispettosa proprio dell'ambiente interno certo e quindi questa era soltanto una considerazione la domanda è la valutazione della componente emotiva dato che avete letto tanta bibliografia e come viene valutata perché spesso questa è tanto influenzata dalla componente psicologica quindi come dividere un effettivo beneficio rispetto perché se guardiamo ad esempio il battito cardiaco magari io entrando sapendo che quella cosa mi fa bene già forse potrei avere delle variazioni rispetto all'effettivo benessere diciamo più scientifico non so se mi sono spiegata certo ti sei spiegata benissimo ed è un aspetto proprio quello che volevamo cercare di approfondire perché c'è bisogno di appunto competenze professionali che sappiano fare e discernere bene questa differenza e inventino dei sistemi per poi misurarla no Piero io non saprei cosa dire di più perché non ci sono studi si sono fatte delle ricerche sulle email che arrivano probabilmente la professoressa la riconosce benissimo di lavoro per cui improvvisamente aumenta il battito cardiaco gli atti respiratori stiamo parlando di email email sono state fatte ricerche su quello porca miseria una ricerca su questi effetti aromatici mancano eppure vi consiglio tantissimi testi di studi sull'aromaterapia in cui guardate già nel 500 600 avanti Cristo già c'erano le falsificazioni degli aromi cioè si falsificavano gli oli essenziali perché costavano meno quindi guardate è un fenomeno vecchissimo le email non c'erano ancora però non abbiamo fatto ancora queste ricerche ecco perché l'importanza di colloquiare proprio con voi che siete all'università perché voi siete il lievito il lievito per questi sviluppi i ragazzi hanno sorriso è vero è vero è vero grazie avete altre domande curiosità online vedo un attimo se ce ne sono altre no no mi sembra di no sulla chat comunque tutto le api continuano a sorprenderci perché non solo sono i responsabili dell'abiodiversità non solo ci dicono come sta l'ambiente ma ogni parte della famiglia praticamente potremmo utilizzarla proprio cioè non c'è nulla delle api nulla c'è anche non ve ne ho parlato ma all'est sempre all'estero usano anche le larve le frullano le conservano infatti negli insetti edibili hanno visto hanno fatto uno studio che in realtà l'insetto edibile per eccellenza è più quello con più volo nutrizionale sono le larve di api per fortuna però insomma è la salvaguardia delle api perché se no cara professoressa ogni tanto me le sono mangiate sono buonissime ah no no l'ho mangiata anch'io è vero ecco sono buonissime inutile nascondere nascondere perché certe volte uno dice ma fa schifo no 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 probabilmente erano appena morte in alcuni casi però non vanno in putreffazione perché sono densissime di sono come dire allevate in un ambiente propolizzato perché la cera in cui vivono è propolizzata fondamentalmente la cera propolizzata è ottima e in più nutrita con il miele quindi sì tant'è vero che le api nutrici tolgono queste larve mummificate quasi che si possono mangiare e sono prima si mangiava il formaggio con i vermi si mangiavano i vermi si buttava il formaggio quindi non vedo perché esatto no no concordo concordo infatti un'altra domanda e chiede Nicola Nicola chiede se nell'apiare olistico può essere anche utilizzato per la produzione dei vari prodotti quindi assolutamente è possibile mettere i melari sopra chiaramente andranno un po' a coprire il finestrone ma poco male e certo tutto diciamo che non le dobbiamo stressare però più di tanto il miele sì sono iper accumulatrici quindi quello non avranno problemi a farlo la propoli anche anzi magari con la rete propolizzano la rete sopra invece che la rete della finestrella non le andrei a stressare per altri per altre produzioni ecco pareale così chiaramente eviterei c'è Ilenia scusa in chat sempre Ilenia che è possibile ricevere le prese forse intendeva le riprese della della registrazione la registrazione sì noi la 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 divulgheremo su tutti i nostri social la manderò direttamente a Sara e poi io la metterò nella pagina e learning quindi quindi il sito del di scienze tecnologie le presentazioni no le slide non le diamo lei ne ha chiesto però la registrazione sì e un'altra domanda ah ok qui perché stiamo affrontando ovviamente sono un pochino seguace di Paolo Fontana siamo tutti no con i ragazzi ho affrontato tantissimo il discorso della competizione con tra api da miele e quelle che sono tutte le api solitarie e api selvatiche ecco vediamo anche le api da miele selvatiche quindi mi chiedeva se effettivamente nel costituire un api aerolistico si tiene anche in considerazione tutto quello che è l'ambiente intorno quindi l'eventuale competizione tra questi organismi diversi giusto questa domanda io penso di sì perché comunque dove collochi un api aerolistico è un posto che potrebbero starci anche da sole le arnie quindi il concetto è lo stesso invece di mettere cinque arnie per dire in fila ci metto anche la casetta quindi l'equilibrio è quello penso che Nicola fosse rimasto un pochino colpito all'inizio quando hai fatto vedere i camion interi o queste casette decine allora Palermo esempio tipico di un api aerolistico sociale quando siamo stati all'inizio di questo mese era un bengodi di api tutto in fiore veramente un e sì dove c'è ricchezza di api guarda caso esistono anche le osmie si vedono farfalle si vedono chissà forse credo che ci sia anche un fenomeno di attrazione che mi piacerebbe che fosse studiato perché è vero che le api sono importanti ma sono importanti anche le osmie le farfalle tutto quello che riguarda la biodiversità perché come dicevano giorni fa alla radio per tenere su un aereo ci sono i rivetti i rivetti nessuno li vede non li vede uno entra in un aereo ma non vede i rivetti perché i rivetti sono invisibili però se i rivetti che che legano le ali dell'aereo saltano uno alla volta l'aereo arriva a un certo punto non vola più è quello che stiamo facendo ora cioè stiamo uccidendo a pizziche la biodiversità e fino a che ce ne accorgeremo in qualche maniera sicuramente ce ne accorgeremo e quindi è importante che l'apicoltore abbia accortezza di ospitare le osmie o altro proprio con quelle piccole cassette si chiamano B.O.T.L anche in V.B.A ci sono delle cose bellissime semplicissime 30 euro quanto caspita 30 euro le si mette sull'albero in un luogo in cui ha una certa altezza che non possa essere aggredito da umani fondamentalmente e lì vanno a popolare quindi perché magari bravissima questa domanda ottima magari sviluppiamole queste cassette per ospitare gli insetti pronubi anzi meglio ancora sarebbe creare una situazione ambientale in cui sono loro proprio a cercare i siti ideali e non siamo noi a metterli in artificiale ad esempio legno morto brava brava ricreare il loro ambiente far fare a loro in modo tale che poi diciamo anche con le api forse questa buca alla fine da quello che ho capito l'api areolistico vuole un apicoltore razionale un apicoltore quindi poi dopo sarà l'apicoltore capire la densità in base a quello che l'ambiente ma che ci metta anche un apicoltore attento all'ambiente non un apicoltore diciamo è quello che vorremmo industriale avevi un'altra domanda Nicola? no? ok no se non vedo che le domande sono finite noi vi abbiamo tenuto ben oltre grazie ma era veramente tanto interessante anche i ragazzi si annuiscono con la testa e ci avete dato tante idee di riflessione e quindi sicuramente la prossima lezione sarà ricchissima e tante idee anche di ricerca Laura e Piero chissà magari teniamoci in contatto comunque saremo felici di partecipare a qualunque idea di sviluppo di mangiamento anche perché è una cosa poi soprattutto per l'agricoltura sociale qui ci sono appunto come dicevo all'inizio che stanno affrontando questa tematica di agricoltura sociale noi come dipartimento siamo abbastanza attivi quindi l'apiario olistico diciamo che rientra pieno come struttura appunto sinergica collaterale sfruttare questa opportunità che l'università come la vostra che ha che ha è trasversale nella nella socialità no? ecco trovare l'impegno di un'università in questo senso è il massimo cioè la mente e le capacità intellettive le capacità di comunicare fuori fuori ecco questo manca questo manca e l'università può fare tante può fare da ponte e da da finestra e dobbiamo lavorare in sinergia come fanno le api d'altronde loro ci inserono non dobbiamo fare altro che fare che diventare api che copiarle esatto bene bene grazie niente io vi ringrazio ancora una volta anche da parte dei ragazzi e immagino anche di chi ha seguito questo vedo anche che ci sono dei colleghi insomma che ringrazio di essere qua presenti e soprattutto ringrazio a Laura a Piero che siete stati coinvolgenti in tutto insomma grazie a voi per la disponibilità per averci permesso di fare questa divulgazione e ci vediamo all'Accademia ci vediamo senza altro online ancora magari in presenza perfetto grazie mille ciao a tutti ciao grazie ancora